Primo tempo tra Riti e Frigidoria, rimaneggiate le squadre, entrambi in cinque uomini, questo primo match di domenica mattina. Sini si rischia, perde il pallone, riparte Deo, ancora Deo, 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 palla sul mancino, palla dentro, sbaglia Longobardo, il tacco di Romano Fabi, 1-0 Riti, la firma del solito Romano Fabi, ad approfittare l'incertezza difensiva dei ragazzi della Frigidoria, Giovanni Dorso già si lamenta, non è ancora finito il primo match, Abetz, Waller, buccia di Fabi, subito 1-1 tra Riti e Frigidoria, Fabi, Fabi se ne va, Fabi per Sinisi, Sinisi, salva Palmieri sulla linea, a Longobardo ormai è battuto, eccezionale Palmieri, ottima la sua chiusura, poi Dorso, date una bomba la tossicina a Dorso, interviene Abetz, Waller, mette dentro a cercare Deo, Deo, appoggia per Palmieri, cicca il pallone, arriva Fabi, ancora Palmieri col mancino, questa volta non sbaglia, 2-1 Frigidoria, schifoso, bravo, 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 scemo, Mariconda il 4-2, Mariconda verso Deo, scambia le 2, Mariconda, non sbaglia, Bomber Mariconda, 3-1 Frigidoria, partita malissimo, sta finendo nel migliore dei modi, Fabi a cercare, proprio Sinisi, la rovesciata di Alberto Sinisi, mamma mia, che giocata del capitone, è, è, perché però capista la partita della mezza, l'importante è quello, Deo dentro, per Abetz, Waller, ancora palo, per Abetz, Waller, c'è il primo tempo, 3-2 tra Atletico Frigidoria e Riti, tutto pronto per il secondo tempo tra Atletico Frigidoria e Riti, 3-2 risultato, adesso vince la squadra di Mariconda, e alla fine ci riesce 4-2 Atletico Frigidoria, la firma del cavallone Mariconda, mamma mia, che cavalcata la sua, destro sotto la traversa, davvero questa volta imprendibile per Fabi, Sinisi il piazzato, sull'assist di Fabi, dalla corsia da Mancina, Sinisi davvero non può sbagliare questa volta, non poteva nulla a Longobard, 4-3, partita a Palermo 2, il destro di Abetz, Waller, 5-3, nuovo doppio vantaggio, Atletico Frigidoria, ci pensa Fede Abetz, Waller, Udinese Toro 1, Mariconda, questa volta la chiude Antonio Mariconda, oggi bomberissimo, 6-3 Atletico Frigidoria, contro dei viti rimaneggiati, comunque, Udinese 1, Chievo Roma 2, ancora Fede Abetz, Waller, 8-3, dilagano, assolutamente, l'Atletico Frigidoria, altra rete, subita da Farris, ancora Fede Abetz, Waller, 9-3, ormai sono gol a ripetizione, gol fotocopia, Abetz, Waller, che dal centro se la porta sul destro, sul lato, appunto, destroso del campo, esplode il suo tiro, puntualmente Fabi non riesce a rispingere la conclusione, adesso è 9-3 per l'avanti, ma così, va, a corsa, si risico la punta, 9-4, calcio di punizione perfetto, scorciano le distanze, i ritmi. Fabi palla sul destro, Fabi! Fabi, la puccia lui, Romano fa, lo inquadriamo. Siamo con Fede Abetz, Waller, il migliore in campo del match, vinto dalla sua Frigidoria per 11-4, addirittura massacrati i riti, entrambi le squadre rimaneggiate, ma avete dimostrato fin dall'inizio di voler vincere questa partita, Fede? Sì, era una partita, diciamo, un po' strano, perché comunque erano 5-5, a mio esempio mancava a Dedo, che è di stronzo, se ci casse il sabato, non lì, quindi niente, vado a dire di colmire la partita, perché altrimenti di accumulare qualche gol, già sono pochi nella sostegno. Fede, tu hai superato, ne hai segnati almeno 5, forse qualcosina in più, punti dopo questa giornata, anche la classifica che provano ieri? E ci proviamo, tanto l'importante è fare bene la squadra, va bene, ti vengo a premiare, sei il migliore in campo del match, ecco, grazie, e palla sotto, ha vinto Policotta, vinto sempre!